L'orologio del cambiamento climatico sta scandendo il suo tempo in questi magnifici paesaggi. Qui in Sibelia e andronde in altre parti del mondo, fa così freddo che il terreno è perennemente ghiacciato. Viene chiamato ferma, prosperi. Ciò che la sua superficie si nasconde una bomba climatica, il metano, uno del gas in serra. Se il terreno a prostra si scioglie, questo gas provocherebbe un enorme aumento dell'effetto serra, con conseguenze che nessuno può prevedere. Ci ritroveremo in un territorio sconossuto. L'umanità non ha più di dieci anni per invertire la rutta e evitare di entrare in quel territorio. Un mondo che non abbiamo mai visto. Abbiamo provocato fenomeni. E' un mondo che non possiamo controllare. Fin dalle nostre origini, acqua, aria e forme di vita erano intimamente collegate. Ma di recente abbiamo spezzato questi legami. Affrontiamo la realtà. Dobbiamo credere a quello che sappiamo. Quello che abbiamo appena visto è il riflesso del comportamento umano. Abbiamo trasmato la Terra a nostra immagine. Ci resta poco tempo per cambiare. Come farà questo secolo a portare il peso di 9 miliardi di esseri umani, se ci rifiutiamo di fare i conti con tutto quello che solo noi abbiamo fatto? Come farà questo secolo a portare il peso di 10 miliardi di esseri umano.